Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nel parcheggio del supermercato Sole 365 in via Settimio Mobilio a Salerno. A prendere fuoco alcuni scatoli di cartone presenti nel piazzale. Le fiamme si sono sviluppate velocemente coinvolgendo anche altro materiale. Sul posto è immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Salerno che hanno provveduto a spegnere l'incendio evitando che si propagasse alla struttura. Ad intervenire anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini per risalire alle cause dell'incendio.